Salve a tutti, siamo ad un altro incontro con Luca Tagliaratera del podcast Tax Planning Internazionale, sono Valerio Quatrano, ciao Luca! Ciao Valerio! Allora, questa volta parleremo di un argomento estremamente scottante, soprattutto per tutti coloro che decidono di trasferire la residenza all'estero. Parliamo appunto di trasferimento di residenza all'estero. In questo podcast vedremo tre errori madornali che fa il 90% delle persone che non si rivolge ad un tributarista internazionale e che poi sistematicamente li conduce tra le grinfie del fisco locale, quindi quello italiano, o del fisco del paese ospitante. Perché? Perché questi tre errori riguardano sistematicamente tre momenti del proprio trasferimento di residenza, il passato, il presente e il futuro. Con Luca vedremo come in questi tre momenti ci siano migliaia di trappole che tu stesso hai realizzato, hai creato e che in futuro, quindi al trasferimento avvenuto, possono impedire appunto il trasferimento o possono creare appunto degli ostacoli che possono metterti nei guai. Per cui quello che faremo qua è vedere innanzitutto quali sono questi ostacoli in questi tre momenti e poi come cercare di evitarli in che modo. Luca, vuoi cominciare tu a parlarne? Esatto, innanzitutto ti ringrazio l'introduzione perfetta, cristallina. Io mi sono reso conto nell'analisi chiaramente di tutte le costruenze fatte negli ultimi anni, che esistono tre grandi macro categorie di errori che vengono sistematicamente fatte da chi non presta attenzione al proprio trasferimento sicuro, quindi da chi lo fa improprio, da chi non si affida alle giuste persone e fondamentalmente come dicevi tu, possono essere collocati in tre momenti esatti della propria vita personale e lavorativa, quindi il passato, il presente e il futuro. Questa riflessione è nata in questi ultimi giorni o quantomeno ha preso vigore in questi ultimi giorni, perché navigando molto sul web evidentemente per lavoro sono presenti online 24 ore o quantomeno ogni volta che non lavoro e mi rendo conto che sull'argomento del trasferimento di residenza fiscale in realtà in rete, al di là di quello che scrivo io, si trova un po' di tutto e soprattutto trovo un certo lassismo, una certa facilità, una certa semplicità, un certo semplicismo nell'affrontare la situazione, quindi molto spesso vedo che si parla dell'articolo 2 del testo unico e quindi si dice si iscriviti all'aere, passa dal comune, fai attenzione ai 183 giorni, insomma la cosa viene descritta un po' come se fosse una passeggiata di salute, cioè addirittura chi vende guide a 10 euro sull'argomento, insomma non so se ci rendiamo conto, noi affidiamo il nostro trasferimento di residenza a una guida di 10 euro, oppure a una consulenza perché la paghiamo poco, però non ci rendiamo conto che poi dall'altro lato ci stiamo portando un rischio fiscale in casa che non inizia e non finisce. Ora, se il trasferimento di residenza fiscale si riducesse alla lettura dell'articolo 2 o all'iscrizione all'aere, saremmo tutti, come dire, sull'argomento non ci sarebbero né accertamenti da parte dell'agenzia delle entrate né evidentemente cartera di equitale sulle spalle di nessuno, se la cosa fosse così semplice, così cristallina. Quindi adesso andiamo a analizzare a cosa bisogna fare attenzione e come evitare questi tre errori, in questi tre momenti fondamentali di un trasferimento di residenza all'estero. Il punto di partenza è comunque quello di avere una visione di insieme, quindi tu o chiaramente il tuo consulente hanno il dovere di avere una visione di insieme, quindi a 360 gradi, che parte dal tuo passato e arriva a quello che sarà il tuo futuro anche tra dieci anni e non sto esagerando. Adesso vi spiego perché. Partiamo evidentemente dal primo punto e cioè dal passato. Che cos'è il tuo passato? Se sei in Italia e hai avuto una presenza tassabile o hai una presenza tassabile, è possibile, se non probabile, che tu abbia ancora dei debiti aperti nei confronti dell'erario o una delle domande che più spesso mi fanno i miei clienti, in corso d'anno hanno ancora la partita IVA aperta, ma non hanno ancora pagato le tasse relativi all'anno precedente. Allora la domanda che sorge spontanea è ma posso non pagare l'IVA dell'ultimo anno? Posso non pagare l'IRPEF dell'ultimo anno? Chiudo tutto e me ne vado? O ancora? C'è chi ha fallito o ancora che è soggetto a procedure concorsuali di ogni tipo, in Italia insomma ce ne sono diverse. Quello che deve passare adesso riguardo al passato è che, chiedo scusa per il gioco di parole, che il tuo debito, quindi il debito che hai fatto sorgere o che sorgerà perché vuoi chiudere le cose un po' in fretta e furia, ti accompagna. Cioè il tuo debito non ti lascia mai, non è che per il semplice fatto di andarsene all'estero abbiamo chiuso completamente con il passato, quindi questa è una cosa che nessuno ti dice che difficilmente anche trovi scritte in rete, anche perché è un argomento piuttosto complesso, ma che però tu che affronti un trasferimento di residenza fiscale devi esserne perfettamente conscio. Che cosa succede? Qual è la situazione classica? Te ne vai all'estero, lasci il tuo debito aperto in Italia perché non te ne frega, assolutamente niente, per mille motivi, ti hanno detto che tanto non ti potrà raggiungere, ti arriva una notifica, c'è una cartella di Equitalia, cosa che ti possono tranquillamente notificare nell'indirizzo che dovresti avere, come dire, la cortesia, chiamiamola così, di segnalare all'aere, quando ti iscrivi all'aere. Ora, che cosa succede? Ti arriva questa cartella, potrebbe darsi che per qualche motivo questa cartella abbia qualche vizio di forma che ti permetterebbe in qualche modo di impugnarla e di non pagarla, per esempio. In ogni caso, oppure, può capitare che te la notificano all'indirizzo sbagliato, quindi ci vuole un consulente che sappia che cosa è successo nel tuo passato, a cosa è legato quel debito, è soprattutto che sia in grado di analizzare l'eventuale vizio o la risoluzione della cartella, perché non è che il fisco, quando te ne vai, si dimentica completamente di te. I controlli, soprattutto per l'iscrizione all'aere, voi lo sapete, se siete interessati all'argomento, probabilmente sapete che dal gennaio di quest'anno si sono intensificati i controlli per gli iscritti all'aere, addirittura dal 1 gennaio 2010, quindi stiamo andando all'indietro per quanto riguarda il controllo da parte dell'agenzia delle entrate. Che cosa voglio dire? Che quando tu te ne vai, il controllo può arrivare anche a distanza di anni, non è che chiudi, te ne vai ed è tutto a posto. Se tu dopo tre anni non ricordi che cosa hai fatto, o comunque non hai raccolto una serie di prove, una serie di giustificativi, anche per poter contestare questa cartella che magari ho un ufficio o un questionario da parte dell'agenzia che ti vuole contestare del fittizio trasferimento di residenza all'estero, tu non è che gli puoi dire, Emma il mio consulente tre anni fa, cinque anni fa mi ha detto, ma devi essere perfettamente consapevole e soprattutto devi rimandere in contatto con il tuo consulente, soprattutto il tuo consulente deve metterti qualcosa per iscritto al momento della partenza, perché altrimenti tu ti ritrovi con una cartella e che non sai cosa fare. Ad esempio Valerio chiedo scusa se forse mi sto dilungando, sto andando piuttosto lungo, però volevo tornare un attimo sul discorso del debito, sul fatto che il debito ti accompagna. Ti volevo dire due cose, e cioè che in realtà esistono degli strumenti legislativi in Europa, ma in realtà in generale in tutti i paesi oxe, che permettono al fisco italiano di collaborare o quantomeno di richiedere la collaborazione del fisco del paese dove ti trasferisci, quindi tu non è che scompari, esiste una direttiva a livello europeo, esiste un articolo del modello di convenzione contro le doppie imposizioni, che è l'articolo 27 in particolare, che può prevedere, a seconda della forma in cui è stato stipulato, una mutua collaborazione tra gli stati nell'attività di accertamento e riscursione. Quindi questa è una cosa che probabilmente, difficilmente trovate scritte in rete, difficilmente un consulente che non abbia una certa esperienza internazionale, vi possa dire, soprattutto un consulente che sia tale. Quindi facciamo attenzione, il passato non è che si cancella, quindi primo errore, attenzione al passato, non se ne va, nel momento in cui varcate il confine, il passato non vi lascia, come era quella frase, tu puoi chiudere con il tuo passato, ma il tuo passato non chiuderà mai con te. In questo caso, soprattutto nel caso degli accertamenti fiscali, è verissimo, quindi facciamo attenzione a fare uno scanner di quello che è tutto un check up della nostra situazione al momento della partenza, di quello che è successo nel nostro passato, perché il consulente dovrà essere in grado di consigliarvi prima di partire ancora. Dunque, tu hai fatto l'esempio del debito, però ci sono anche molte altre cose che possono riguardare, che possono creare appunto degli ostacoli che poi si ripresentano nel futuro, giusto? Ci sono altre ipotesi. Tu hai fatto l'esempio del debito, però bisogna stare attento poi anche a altre cose. Quindi questo è per quanto riguarda il passato, giusto? Esatto, tutto quello che è il tuo passato, tributato da contribuente, deve essere preso in considerazione nel momento del passaggio nel confine. Non se ne va, non scompare da solo. Sebbene sia un errore abbastanza banale, perché è ovvio che non è che rinasci di nuovo, insomma, semplicemente stai andando a lettera. Quindi non è che la tua persona scompare. No, però soprattutto c'è molta ignoranza, c'è molta non conoscenza. Cioè, quindi se nonostante sia un errore banale, di fatto poi lo commettono moltissime persone, perché pensano che appunto che andando all'estero si cancella tutto il proprio passato. Esatto, esatto. Magari in quel momento non hanno più niente in Italia, non hanno un reddito, eccetera, eccetera, e quindi prendono il patto, dicendo, ma tanto che mi fanno? Però non considerano l'idea che magari domani possono acquistare l'immobile in un altro paese. Certo. A determinate condizioni non può essere escluso un accertamento in quel paese in collaborazione con l'agenzia delle entrate. È chiaro che se parliamo di debiti di 500 euro, ma questa cosa difficilmente succederà. Però ad aumentare dell'interesse economico, a recuperare le imposte da parte del fisco, chiaramente aumenta la possibilità, aumenta il rischio. La determinazione del fisco di HNIRS. Va bene. Allora vogliamo passare al presente? Sì, adesso analizziamo perfettamente il presente. L'errore è quello di sottovalutare il presente. Per presente si intende tutto quello che hai in tasca al momento che decidi, al momento che decidi di divarcare il confine italiano. Quindi quando te ne vai al comune, ti scrivi all'aida e te ne vai nell'altro paese. Ci stai per più di 183 giorni e tutte queste belle cose che ci dice l'articolo 2, che tutti quanti voi sapete sul domicilio, la residenza, eccetera, eccetera. E quello è il compito a casa fondamentalmente. Il consulente ti legge l'articolo, ma a quel punto te lo puoi leggere anche da solo e tu parti. E stai tranquillo, perché l'articolo dice quelle tre cose. Devi prendere in considerazione che cosa? Tutto quello che hai nel momento in cui parti. Ti faccio degli esempi, così è molto più chiaro, perché chiaramente sono, che poi sono tutti frutti, è tutto il frutto dell'esperienza di questi ultimi anni, sono tutte casistiche che noi abbiamo affrontato e risolto una per una. Sono tutte quante casistiche, tra l'altro previste e disciplinate dal nostro legislatore, che prevedono un determinato tipo di approccio, come a ciascuno in su. Per esempio, te ne vai, hai una casa in Italia. Per esempio, hai una casa in Italia che era la tua prima casa, dove vivevi e quindi la lasci sfitta e te ne vai. Oppure la dai incomodato d'uso gratuito a un parente, oppure ci lasci la tua ex moglie. A seconda delle circostanze, quindi a seconda del verificarsi di uno degli eventi che ho appena citato, tu devi sapere chi paga cosa, cioè chi è tenuto a dichiarare, qual è il rischio di gestirlo in una determinata maniera. Se ci sono delle segnalazioni da fare in dichiarazione, non è che te ne vai e basta. Una dimora abituale lasciata, per esempio, a propria disposizione in Italia può crearci un problema dal punto di vista del centro degli interessi vitali. Quindi possiamo trovarci domani con una contestazione legata anche al fatto di avere un semplice immobile a disposizione in Italia. Questa cosa va gestita, o ancora? E' una cosa che capita sempre più spesso, soprattutto negli ultimi anni. Puoi avere dei terreni agricoli, perché chiaramente gli immobili non sono le uniche, chiedo scusami, mi hanno inventato i termini inglesi, in ogni caso può verificarsi che tu abbia un terreno agricolo in affitto. Anche questo capita molto spesso. Devi sapere come gestirlo, se lo puoi dare in affitto, se lo devi dichiarare. Non è che tu scompari il tuo bene, quando tu vai via, continua a creare una presenza tassabile per te in Italia e la devi gestire. O per esempio hai degli immobili anche all'estero, vuoi decidere di aprire un immobiliare per gestirli tutti. A determinate condizioni un immobiliare di gestione per i tuoi immobili in tutto il mondo, anche in Italia, può provocarti dei problemi a livello di accertamento da parte dell'agenzia delle entrate. Di nuovo, posso contestare il tuo trasferimento di residenza. O ancora, e questo è un altro degli elementi molto sottovalutati, ma che in realtà andrebbe analizzato in maniera eccessivamente scrupolosa, oserei dire, che è quello che poi facciamo noi, i tuoi investimenti strumenti finanziari. Tu che investi in mercati finanziari sei molto attento e sensibile al problema. Puoi avere dei conti, il risparmio amministrato, il risparmio gestito, fondamentalmente affidati alla tua banca. A parte che dubito già che tu sappia quale sia la tassazione attuale, perché può essere un tema un po' delicato, ma devi sapere che questo risparmio amministrato, questo risparmio gestito o comunque i tuoi investimenti strumenti finanziari e a seconda dello strumento finanziario, quindi fondi, azioni, fondi di investimento, la tassazione cambia, vanno gestiti. Cioè devi sapere esattamente che cosa succede fino al giorno prima che varchi il confine e come gestire la cosa il giorno stesso che varchi il confine dello Stato italiano. Ci sono delle comunicazioni, ci sono delle segnalazioni da fare, anche la stessa banca. Non è che te ne vai in Svizzera, poi alzi il telefono, chiami il tuo private banker in Italia e dici ah guardi, io me sono andato tutto a posto. Non è così. Quindi anche in questo caso ci sono delle procedure, ma soprattutto c'è un'analisi da fare sulla tassazione degli strumenti finanziari, che possono essere anche partecipazioni alla SRL di famiglia, che vanno fatte, anche valutazioni di convenienza che vanno fatte prima di partire, non dopo, perché realizzare per esempio un capital gain, una plus valenza su una cessione da partecipazione qualificata dopo essere partiti e pensare di poter, magari su un valore considerevole e pensare che vada tassata soltanto all'estero, non è esattamente così, cioè è assolutamente furbiante, può essere un indizio di elusivo per l'agenzia delle entrate, anche se la realizzi su un conto corrente estero, oggi quel conto corrente estero arriva sul tavolo dell'agenzia delle entrate, quindi un questionario che arriva da parte dell'agenzia. Questo voglio dire, quindi il tuo presente, tutto quello che hai, immobili, strumenti finanziari, terreni agricoli, partecipazioni, compensi da amministratori ancora, o per esempio, te ne vai nel 2017, alla fine del 2017, ma per tutto il 2017 hai fatto prestazioni occasionali da consulente in Italia, quelle prestazioni occasionali, anche se tu non hai aperto una partita IVA, rimangono, non scompaiono, quindi vanno dichiarate in Italia, vanno gestite ancora. Ti faccio un altro esempio sempre che riguarda i consulenti, i freelance. Un freelance che ha un parco clienti italiano e deve tornare ogni tanto in Italia per, che ne so, l'aggiornamento di un software, oppure perché una consulenza deve essere effettuata durante il corso di una riunione, o perché una traduzione deve essere effettuata in loco. Ci sono mille motivi per il quale un consulente, anche dopo che se n'è andato, deve svolgere parte del suo lavoro in Italia. Questa cosa, che pochi sanno, di dover svolgere parte del suo lavoro in Italia, in realtà ti assoggetta al rischio, al pericolo, se non alla possibilità, quantomeno, di veder applicato al tuo compenso una ritenuta di ben il 30%, dopodiché tu devi sapere quali sono le condizioni per evitare questa ritenuta e se non si può evitare, devi sapere in che modo andare a chiedere il rimborso all'Agenzia dell'Entrata e al Centro Operativo di Pescara. Tutto questo te lo devi porre come problema prima di partire e non dopo. E questo è il discorso della visione d'insieme, quindi anche chi parte non ha niente, quindi il classico nomade digitale che se ne va, dice ma io me ne vado, non ho niente, ho capito, ma se anche solo hai un cliente italiano che ti pone questo problema, cioè una volta all'anno devi tornare per svolgere una consulenza in loco, si pone questo problema e tu devi sapere esattamente come gestire. Oppure, passiamo ai marchi di brevetti, per esempio, hai inventato, ci sono dei marchi o dei brevetti di tua invenzione registrati in Italia. Te ne vai, che cosa facciamo di questi marchi e brevetti? Li lasciamo in Italia o ce li portiamo? Che cosa succede quando ce li portiamo? E i flussi di denaro, per esempio le cosiddette royalties legati all'incasso, alla monetizzazione di questi marchi e brevetti, come vanno gestiti? Rischio profili di illusione fiscale? Se me ne vado e l'incasso all'estero? o è tutto a posto? Rischio ritenute da conto alla fonte, ritenute da conto all'edtrata? Giocare con questi elementi è pericoloso e soprattutto è necessario, chiaramente un'esperienza importante dall'altra parte, o ancora, ma hai delle cariche in società, sei l'amministratore della SRL di famiglia, come lo gestisce il compenso dell'amministratore? Chi tassa? Tassa l'Italia? Perché questo compenso parte dall'Italia? Oppure tassa il paese di destinazione? Per esempio, ritorniamo alla Svizzera, se te ne vai in Svizzera, che cosa dice la convenzione contro le doppie imposizioni? Come va interpretata la convenzione contro le doppie imposizioni? Perché non è che c'è sempre soltanto una e una sola interpretazione, soprattutto non c'è sempre una e una sola convenzione, le convenzioni si aggiorna, quindi potrebbe essere che quando ti arriva la contestazione fa riferimento a un anno in cui è applicabile una convenzione che non è quella sulla quale però avevi fatto i conti al momento di partire. Non so se mi viene spiegato, se mi sono spiegato, sto entrando un po' troppo nel tecnico, però per farvi capire, o ancora, mi vengono in mente altri esempi concreti di persone e di problematiche che ti abbiamo gestito in questi ultimi anni. Hai una rendita perpetua che ti viene o da un'assicurazione sulla vita, per esempio che ti ha fatto un genitore o un nonno, insomma, prima di passare al miglior vita, o ancora è una rendita da infortunio perpetua che ti viene per un infortunio sul lavoro erogata quindi dall'INAI. Come la gestisci? Il semplice fatto di continuare a ricevere la tua pensione INAI, la tua assicurazione sulla vita, su un conto corrente italiano, è una cosa possibile o è meglio evitarla? E se me la porto di là e la faccio accreditare sul conto corrente estero, come viene tassata? Lo devo continuare a segnalare in Italia? Poi abbiamo il problema dei pensionati, ovviamente sulle pensioni si pone lo stesso problema, per non parlare poi del problema della exit tax, problema, è una legge prevista dall'articolo 166, la quale fondamentalmente applica una tassazione su tutte le imprese che se ne vanno, te la spiego in maniera semplice, se te ne vai fondamentalmente il valore latente di quella società va tassato al momento dell'uscita e tu devi sapere se lo devi sapere, e questa cosa si applica anche alle ditte individuali, non si applica soltanto alle società, e tu devi sapere esattamente dove mettere le mani, come calcolare la plusvalenza, se va tassata, se la puoi rateizzare, se te la puoi portare all'estero, se la puoi sospendere, e dall'altra parte devi ragionare in maniera speculare, devi sapere che succede nel paese dove vai. Quindi non so se mi sono spiegato, la situazione può sembrare semplice, chiaramente a occhi inesperti, a chi si improvvisa consulente e ti dice che l'articolo 2, io ritorno su questo benedetto articolo 2, ti dice che per più di 183 giorni devi stare all'estero, quello è proprio il punto di partenza, se non fai nemmeno quello sparati, però considera che ci sono mille altre cose da prendere in considerazione, in più su ognuno degli elementi che ti ho citato esistono in Italia vita e morte miracoli a livello di normative circolari, sentenze delle commissioni tributari, provinciali e regionali, sentenze della Cassazione e sono orientamenti di dottrina, tutte queste cose a seconda dell'elemento del rischio, del pericolo, dell'elemento di pericolo che stiamo esaminando, vanno prese in considerazione ed esaminate nel loro divenive, quindi dobbiamo andare a vedere che cosa ha detto la dottrina su quella cosa, a burbe condita, negli ultimi 10, negli ultimi 20 anni, perché nel tempo questi orientamenti, queste dottrine si accavallano e spesso si biforcano, quindi troviamo spesso più di un solo orientamento, allora noi a quale dobbiamo fare affidamento, qual è quello prevalente, qual è quello che ci fa correre meno rischi il giorno che l'agenzia ci viene a bussare alla porta, ci viene a bussare alla porta e se il rischio elevato riusciamo a gestirlo o per esempio, c'è una questione che mi sta particolarmente a cuore, che è particolarmente complessa, del quale sicuramente se mi state ascoltando e state valutando o avete attraversato un trasferimento di residenza fiscale, siete a conoscenza, che è quella della questione del centro degli interessi vitali, il centro degli interessi vitali è un principio che ti dice in sostanza sei residente ai fiscali lì dove ci sono i tuoi interessi vitali, per interessi vitali si intendono sia gli interessi patrimoniali, sia gli interessi economici, sia gli interessi sociali e quindi molto spesso gli interessi familiari, quindi molto spesso si pone il problema di chi lavora all'estero, chi per esempio si trasferisce a ritorno sulla Svizzera, ha un reddito a lavoro dipendente anche in Svizzera e però ha la moglie in Italia, questa persona, dove la dobbiamo considerare residente ai fini fiscali, dove paga le tasse ed è un tema profondamente delicato, perché su questo centro degli interessi vitali ogni Stato ha il suo approccio, che può essere anche diverso e per esempio la Svizzera ultimamente sta chiudendo un po' i confini e sta rimandando a casa anche gente che è iscritta regolarmente all'aereo, ha un reddito a lavoro dipendente, ha una casa eccetera eccetera, però c'è la moglie in Italia e la Svizzera adesso sta negando dei permessi. L'Italia dall'altra parte che cosa fa? Sposa l'intervento della Svizzera? Di base evidentemente sì, perché vuole riacquistare contribuenti, quindi la situazione diventa due volte più pericolosa. Inoltre, e poi ti prego fermami perché mi sa che sto andando oltre. Un'altra cosa da sapere è che siamo in Europa, sì sono in Europa anche io, adesso ne ho dimenticato il paese nel quale vivevo in questo momento, sì siamo in Europa, non c'è soltanto la… però ecco questo vale comunque a livello internazionale, non c'è soltanto le sentenze della Corte di Cassazione italiana, non c'è soltanto la giurisprudenza normativa italiana, ma c'è anche quella europea. Su argomenti di matrice tributaria per quanto riguarda le imposte dirette e indirette a legiferare è la Corte di Giustizia europea. Anche la Corte di Giustizia a livello europeo ha nel corso degli ultimi 40 anni emanato una serie di sentenze che hanno la loro propria interpretazione di concetti come il centro degli interessi vitali e molto spesso queste sentenze della Corte di Giustizia, sono diametralmente opposte alle sentenze invece di quelle che possono essere della Corte di Cassazione italiana piuttosto della Corte Suprema Svizzera, quindi la Svizzera non rientra nella comunità europea, però ha comunque degli accordi che sono in tutto e per tutto simili a quelli che sposano gli stati dei membri dell'Unione europea, quindi comunque assimilabile all'interno del nostro paragone. Però potrebbero esserci e ci sono sentenze della Corte di Giustizia che in realtà hanno la propria interpretazione sul centro degli interessi vitali e che hanno dato torti a dei contribuenti in cui invece la legislazione nel proprio paese gli permetteva di fare quella cosa, cioè aveva un'interpretazione nel centro degli interessi vitali diametralmente opposto. Allora tu quando te ne vai, adesso ti sembra una sciocchezza, diciamo a me non succede. No, a te succede, soprattutto se te ne va, non voglio fare l'uccello del malagurio, però non è questo l'approccio che devi avere, l'approccio è, devo essere pronto nel momento in cui mi arriva una contestazione, a carte in mano, devo essere pronto a dimostrare che in realtà io sono giusto, o quantomeno devo aver costruito nel tempo un impianto probatorio suggerito da un consulente che sia degno di essere chiamato tale che quando arriva l'agenzia delle entrate andiamo a parlare, andiamo a discutere e poi andiamo in corte e vediamo chi vince. Non che alziamo le mani, Emma io non lo sapevo, sa il consulente online mi aveva detto così, io poi mi sono fidato. L'agenzia delle entrate non gliene frega un cazzo che tu ti sei fidato del tuo consulente online. Quindi tutte queste robe, per concludere, e qui stiamo parlando ancora del presente, ancora dobbiamo arrivare al futuro, il terzo errore, quindi rendetevi conto della vastità dell'argomento quando uno parla del trasferimento di residenza fiscale. Qui ti rendi conto che, di nuovo, ribadisco il concetto non è che te ne vai e ti fai 183 giorni all'estero e fai tranquillo. Certo. Non so se ci sono andato giù troppo pesante, Valerio. Sì, sì, no, 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 è stato interessantissimo, è un argomento che io non conosco affatto questo così nel dettaglio perché ovviamente non me ne occupo, però è stato interessantissimo sentire come ci sono migliaia di sfaccettature che possono poi inchiodarti, perché poi noi non pensiamo al fatto che la vita che abbiamo condotto in Italia, ogni cosa che abbiamo fatto ha creato una nuova ramificazione che va appunto dalla rendita passiva che abbiamo creato perché abbiamo investito in strumenti finanziari, alla pensione di diversibilità, a 3.000 cose che ci sono successe che hanno creato sempre più legami e tutti questi legami che attualmente sono presenti, non ti fanno andare via facilmente da come abbiamo capito praticamente. È chiaro, ora io dico, è normale che il cliente, la persona che se ne va, lasciamo stare il cliente, chi se ne va non può sapere queste cose evidentemente perché parliamo di conoscenza piuttosto approfondita del diritto tributario nazionale, internazionale e europeo, quindi è normale che il cliente che fa l'imprenditore piuttosto che il consulente sarà un mostro del suo settore ma non ne capirà niente di tributario, quindi magari il problema non se lo pone proprio, il problema giustamente, il problema è che chiaramente i problemi si pongono prima, il problema vero è che qua si ritrova poi in mano a un consulente che gli legge l'articolo 2 e a me è successo, a me tornano da me, ti faccio due esempi reali, mi è tornato un cliente dopo un anno perché aveva rifiutato il mio onorario, secondo lui era troppo alto, me l'ha rifiutato e è tornato da me e mi ha detto Luca io ti chiedo scusa perché non ho accettato, ho ritenuto non opportuno accettare il tuo onorario perché per me era troppo alto, ho accettato quello di un altro, alla fine della fiera mi sono fatto due o tre consulenze, ho pagato di più di quello che mi hai chiesto tu e adesso mi trovo un problema, mi trovo con una struttura, con un problema, con un trasferimento che non è andato a buon fine, non posso utilizzare, e quindi è tornato da me, questo per dire quello che c'è là fuori, ho ancora, mi è arrivato uno che mi sono rifiutato di prendere, ho cercato di aiutare ma era praticamente impossibile, mi ha detto no io sono andato in, questo mi sarebbe scritto anche in un Reba, comunque questo qui è andato in Congo, fondamentalmente era convinto di aver fatto l'escrizione all'Aire, che bastasse l'escrizione all'Aire per cancellarsi dalla residenza fiscale italiana, adesso si ritrova con una cartella di 90 mila euro, che fai? Eh ma il consulente mi ha detto che mi dovevo scrivere all'Aire, ho capito, tu ti hai scritto all'Aire? A posto. Sì ma poi questi consulenti dove li trovate? Non è che uno che si definisce consulente e consulente, cioè io per esempio penso di avere, conoscere molto più grazie a Luca il diritto tributante nazionale di 3 mila consulenti là fuori, e comunque non mi spaccio per consulente, sebbene lo conosca meglio di persone che non hanno nessuno straccio di titolo, oppure anche persone che hanno il titolo, cioè sono commercialisti, ma non fanno questa attività da 10 anni, da 5 anni, e ovviamente chiunque non conosce queste cose si legge l'articolo 2 e pensa che sia, poi alla fine come tutte le cose devi viverle, devi toccarle, devi scontrarti con i problemi di tutti i giorni, altrimenti non ne capisci, e se tu non lo fai puoi essere consulente, puoi essere un tributarista già affermato, puoi essere uno che si dice altrone, che si definisce tale, i risultati sono gli stessi, perché se non conosci appunto il diritto internazionale, se non lavori in questo settore da 10 anni, non lo mastichi. Non hai la sensibilità del problema quando incontri il cliente, quindi anche ogni cliente deve avere il suo taglio, il suo approccio, la sua consulenza, la sua protezione, anche a livello di protezione patrimoniale, a proposito del passato, errore numero 1, anche quello che ha il patrimonio accumulato nel momento in cui parti, devi porti il problema, lo posso proteggere, ma te lo devi porre prima che arriva l'agenzia delle entrate, altrimenti è troppo tardi. Esattamente, quindi se tuo cugino per esempio è un mostro di tributario internazionale e lavora, che so, nello studio di Tremonti e fa funzioni tra multinazionali, questo non vuol dire che sia ferrato su questo particolare settore del tributario internazionale, cioè non è che, è come i medici, se un medico è un grandissimo chirurgo, magari non capisce niente di gastrite, di malattie dello stomaco, insomma. Esatto, però ha la laurea in medicina pure lui. Esattamente, e allora tu sei forviato da questa cosa, non funziona così, non funziona assolutamente così. No, ma adesso direi di passare al terzo errore, altrimenti ci dilunghiamo troppo e diventiamo noiosi per i nostri ascoltatori, e io mi scuso in diretta, arriviamo all'errore numero 3, il futuro, quindi abbiamo analizzato il primo errore, fare attenzione al passato, secondo non fare attenzione al presente, terzo non fare attenzione al futuro, e qui si scoperchia un nuovo vaso di Pandora, qui fondamentalmente passiamo dal trasferimento di residenza fiscale un po' lo uniamo a un problema che è proprio anche della pianificazione fiscale internazionale. Vi faccio un esempio per farti capire esattamente. Quando tu parti, evidentemente parti con l'idea di svolgere un lavoro dall'altra parte, no? A meno che non sei stato assunto, non sei un lavoratore dipendente, quindi ti assumono o la sua mola multinazionale per la quale già lavoravi, ti prendono da un paese e ti sposti, e ti sposti lì a rimastica, a meno che non vai a fare il cameriere, insomma da un'altra parte avrà il problema, o se te ne vai fondamentalmente hai un tuo, o per lo meno i nostri clienti hanno business già avviati, molto probabilmente sarà un business di servizi digitali, e devi porti il problema del futuro, cioè che cosa succede quando vado dall'altra parte? Ci sono tutta una serie di domande che ti devi porre, ci sono tutta una serie di elementi che devi considerare, per esempio, ti conviene metterti in proprio con una cosa che sia equivalente alla nostra partita IVA e quindi da solo come persona fisica, nel momento in cui vai a lavorare in un altro stato, magari hai clienti in tutto il mondo, oppure ti conviene un veicolo societario? Ancora, a seconda del paese dove vai, qual è il regime fiscale da adottare? Come in Italia, ogni altro paese ha i suoi regimi fiscali, quindi il cosiddetto forfettino, per farti un esempio stupido di quelli che trovi in Italia, non è detto che non ci sia magari la tassazione ancora più agevolata in un altro paese, quindi magari tra la società che tassa il 10 e il forfettino che tassa il 5 ti conviene dal forfettino, ma tu devi sapere esattamente quali sono i regimi fiscali dei paesi dove vai, quindi il consulente dovrebbe essere in grado di dirti esattamente quali sono, o il suo network dovrebbe essere assolutamente aggiornato di anno in anno, quindi parliamo di leggi che cambiano in continuazione, e dirti esattamente che cosa succede se vai là e che cosa ti conviene fare, lavorare come ditta individuale oppure aprirti una società? O ancora, un'altra domanda che devi porti, sempre riguardo all'errore, alla sottovalutazione del futuro è, la società mi conviene davvero aprirla nel paese dove mi sono trasferito, oppure magari mi conviene aprirla in un paese terzo? Per esempio, un'altra domanda ancora che ti devi fare legata a questa è, con chi fai affari nel mondo, chi sono i tuoi clienti, qual è la tua tipologia di business, quindi a chi devi fatturare? Ehi, a seconda di queste, e ancora la domanda a chi devo fatturare, poi si pone il problema dell'IVA, la devo applicare, non la devo applicare, nel paese dove vado c'è, probabilmente se è un paese dell'Unione Europea l'IVA ci sarà, se è un paese extra web come Hong Kong, magari l'IVA non c'è, ma tutte queste cose le devi valutare prima perché influiscono sui prezzi sul mercato finale, evidentemente al cliente finale, inoltre ci sono tutta una serie di adempimenti amministrativi, soprattutto legati alla fatturazione, che devi conoscere prima, perché magari ti costano in termini economici, perché magari il commercialista ti costa per gestirli più che non muoverti, quindi ci sono tutta una serie di valutazioni anche di convenienza economica e fiscali, su tutto quello che andrai a fare, su tutto quello che andrai a implementare, e devi prendere in considerazione, quindi dov'è il tuo mercato? Rimani in Italia? Lo sposti? È un mercato internazionale? Apriamo una società all'estero, lo possiamo fare? Perché, per esempio, potrebbero esserci problemi di dove amministrati la tua impresa, cioè, per esempio, ti abbi una società a Hong Kong, ma te ne vai a vivere in Bulgaria, in Bulgaria c'è una cosa che poi è tipica dei paesi europei, che è quella del place of effect in management, cioè il POEM, se tu, se la Bulgaria ti scopre che la tua società, la Bulgaria è un po' più particolare, facciamo l'Olanda, se l'Olanda ti scopre che l'amministrazione della tua società a Hong Kong è svolta al 100% in Olanda, ad Amsterdam, dove si è andato a vivere, tu rischi che quella società sia rideterminata come olandese e quindi non paghi più lo 0% che ti offre Hong Kong, ma paghi la tassazione che ti offre l'Olanda, più sanzioni. Quindi esistono tutta una serie di regole antielusive in questo senso, questa è una tipica regola antielusiva internazionale, che alcune legislazioni adottano in pieno, perché poi in realtà ci sono degli standard internazionali da ricepire, europei o dell'Ocse, e altri invece adottano applicano in maniera parziale, oppure con delle sfumature, e anche all'interno della stessa Europa ognuno applica la sua, quella che applica a Malta non è quella che applica all'Inghilterra, scusa mi sento un po' di ritorno, mi senti bene? Sì, sì, mi sento. Ok, quella che applica a Malta non è quella che applica all'Inghilterra, che non è quella che applica all'Irlanda, che non è quella che applica all'Olanda, quindi diventa complicato insomma arrivare, dare una consulenza a priori su un argomento del genere, ma tu il problema te lo devi porre, quindi sto cercando di fare un po' di sensibilizzazione, soprattutto se un imprenditore è serio, i fatturati sono alti, il rischio poi è alto, cioè il rischio di farsi male, ma già da un fatturato di 100.000 euro in su, il rischio di farsi male è concreto, non è una sciocchezza. Poi per quegli strumenti di riscossione che abbiamo detto all'inizio, che riguardano il passato, di nuovo non è che cambi stato e il tuo debito non c'è più, e quindi ti sposti all'infinito perché sei un nomade digitale, capito? Senza contare che manco ti puoi spostare all'infinito. Senza contare che poi ci sono dei problemi della Madonna per quanto riguarda i visti soprattutto, e tu ne sai qualcosa che ti sposti in continuazione. E' un casino della Madonna, veramente. Quindi, e poi chiudo, c'è il problema dei visti e poi c'è il problema delle ritenute sui passi income, per esempio ricevi royalties piuttosto che dividendi dalla tua società, ci sono delle ritenute che si applicano in entrata e in uscita su questi flussi di passi income, o ancora puoi avere dei collaboratori che hai lasciato in Italia per mille paesi, oppure per mille motivi, oppure hai trovato collaboratori in altri paesi. Sai come puoi pagarli? Cioè lo sai se questa prestazione di servizi magari di un softwareista indiano non sconta una ritenuta alla fonte in India? Probabilmente sì, ma se il tuo consulente non è uno che ha una visione con due palle così d'insieme, tu ti esponi a una serie di problematiche che magari per qualche anno nessuno ti dice niente e poi ti ritrovi tutti insieme con una serie di problemi, perché queste cose ormai nell'era della globalizzazione totale è tutto profondamente interciato, quindi non è perché la fai franca in un anno, allora l'anno dopo non ti beccano, e questa è soltanto la punta dell'iceberg. Per cui penso di esserci andato pesante anche sul futuro, no? No, 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 sì, abbiamo, abbiamo, abbiamo... Però è importante, capito? È ovvio che non a tutti si appliceranno le stesse cose, però a tutti devono essere fatte delle popolazioni di convenienza che riguardano presente, passato e futuro in questo modo, in quest'ordine che vi ho appena detto, non un elemento di meno, sicuramente un elemento di più. Assolutamente, sì. E se no, ci leggiamo l'articolo 2 e ce ne andiamo tutti quanti felici e contenti. Sì, sì, io proporrei di abolirlo questo articolo 2, perché fa più danni di altro. Sì, sì, moltiplica i consulenti e poi dopo, però, quando tornate da me, non vi aspettate che io mi prenda a braccia aperte, qualcuno lo rifiuto, perché a questo punto mi arrivano talmente inguaiati che mi rifiuto anche di prenderli, mi costa più il tempo per mettergli a posto le cose. A quel punto, sì, a quel punto devono rivolgersi ad un avvocato, perché... Sì, ma io a volte ne faccio esagero, ne faccio proprio una questione di principio, mi hai detto di no prima e mo' sono cazzi tuoi. Scusami se mi permetto. No, 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 perché ognuno può sapere quello che vuole. Esatto. Va bene, senti, io direi di concludere, perché siamo a 40 minuti, quindi siamo andati, abbiamo sforato dentro il tempo. Sì. Darei appuntamento a tutti al prossimo podcast, non so ancora di cosa parleremo, lo decideremo, ma sicuramente parleremo di un argomento magari un po' più soft, un po' più leggero, magari anche di investimenti all'estero, che dici? Io penso che è un'ottima soluzione, magari andiamo, utilizziamo, mixiamo pianificazione fiscale e investimenti all'estero e vediamo che ne esce. Va bene. Grazie a tutti, grazie Valerio. Ciao. Grazie a tutti.